Nel big match valido per la quarta giornata del campionato di serie D, girone F, il Pineto vince per 1-0 in casa contro il Trastevere, dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa super barlafante con la prudezza balistica, porta all'intera posta i padroni di casa. Calcio d'inizio per gli ospiti, partono forti i capitolini, i cervoni dal limite impegna Mercorelli in angolo, dalla bandierina salta squersanti, palla fuori di poco, i rivieraschi rispondono al decimo della quercia, si accentra, bisturi intelligente per Pezzotti, l'ex Recanaltese stampa sul palo il pallone del vantaggio, i capitolini ribattono colpo su colpo, crescenze svicola in aria, conclusione deviata in angolo. Al quarto d'ora, azione Damoviola, Cardella penetra in aria, termina a terra, pistarelle di fermo, dapprima indica il dischetto, poi sembra ripensarci e tornare sui suoi passi, il Pineto vuole il vantaggio, Minincleri arriva dal limite, conclusione debole che viene bloccata da Semprini, al 39esimo provano i Trasteverini a mettere la freccia del sorpasso contro piede imponente, Monni controlla, prende tutto il tempo per pezzare a giro il pallone che si spegne alto sul fondo. Nella ripresa, l'ex Peschera, Monni a fare la voce grossa girata di poco sul fondo, la partita è viva, Cardella prende la mira, Eurogol sfiorato dall'ex Cinzi al Balonga, dalla parte opposta è squerzante a cercare la rete dell'1-0, senza però successo. Alla mezz'ora si accende la squadra di Mister Mazza, azioni insistite in aria, i rivieraschi con un pizzico di affanno riescono a disinnescare la minaccia, 120 secondi dopo è il solito Federico Barlafante a rompere gli equilibri. Il numero 21 si accentra e con una splendida conclusione batte un incolpevole Semprini e fa esplodere il Mariani Pavone. L'undici ospite prova a impattare il match al minuto 80 su calci di punizione, Corsetti prova a beffare Mercorelli che si rifugia in corner. Non succede più nulla, il Pineto vince e conquista un'intera apposta che vale doppio contro un Trastevere, ostico ma vivo, fino alla fine. Io sono contento soprattutto per la prestazione, prestazione importante fatta contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà, è stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le parti perché abbiamo cercato tutte e due le squadre di vincere. Questa era la classica partita che si poteva sbloccare con un episodio o con una grande giocata, siamo stati fortunati e bravi noi a fare gol, a fare una grande giocata con Federico Barlafante. Quindi poi siamo stati concentrati e cattivi a tenere il risultato fino alla fine perché non ci ricordiamo che il Trastevere veniva a tre vittorie di fila, era una squadra forte e lo è lo stesso. A Barlafante lo conosciamo tutti, lui è due o tre anni che fa bene, nonostante sia un 2000 sia un under ma lui sta dimostrando che può giocare in questa categoria senza problemi, anzi può fare se continua così e cresce ancora mentalmente può fare anche categorie superiori. Sì, diciamo che conoscevamo il valore dell'avversario quindi eravamo abbastanza preparati per affrontare una partita difficile, credo che nonostante tutto abbiamo fatto una buona gara decisa da un episodio, siamo stati un po' disattenti. No, andare in proverare non credo perché ripeto non credo che sia facile venire a fare una buona prestazione su questo campo, credo che secondo il mio parere il secondo tempo avremmo meritato qualche cosina di più. Noi ragioniamo partita per partita, poi è chiaro che è una società che ormai è una realtà di questo campionato quindi vogliamo fare bene.